Siracusa, violenza inaudita sulla compagna sanguinante. La polizia arresta il 52enne per lesioni. L'ennesimo episodio di violenza nei confronti di una donna si è perpetrato nel tardo pomeriggio di ieri in un'abitazione nei pressi di via Lezzecchino. Un siracusano di 52enne ha colpito ripetutamente con violenza la sua compagna, una donna di 45 anni, di origine ucraina. Solo il tempestivo intervento degli uomini delle volante ha evitato che l'uomo si accanisse ulteriormente nei confronti della sua vittima, che è stata soccorsa sul piananottolo di casa sanguinante. Il violente è stato prontamente bloccato, identificato e tratto in arresto. Sul luogo delle violenze è stato rinvenuto e posto sotto sequestro un bastone in alluminio con il quale l'uomo avrebbe ripetutamente colpito la donna, causandole la frattura del setto nasale e una ferita lacero contusa alla testa giudicata e guaribile con una prognosi di 21 giorni. Per l'arrestato l'autorità giudiziaria competente ha disposto i domiciliari.